Ministro, assistenzialismo forse è una parola che si lega all'agricoltura come era vissuta un tempo. Oramai c'è tanta impresa e anche i contributi europei sono andati calando nel tempo. Tuttavia non viene meno l'esigenza di investire sull'agricoltura. È un po' anche uno dei concetti alla base della sovranità alimentare. Bisogna investire per avere sicurezza degli alimenti e sicurezza degli approvvigionamenti, è giusto? È giusto e assistenzialismo applicato all'agricoltura secondo me sia un termine non corretto. Assistenzialismo è un metodo di sostegno a qualcosa di inutile, è il contrario quello che va definito come incentivo a produrre. Noi abbiamo bisogno di maggiori produzioni in Italia e in Europa perché siamo in concorrenza con il resto del mondo e dobbiamo garantirci una sovranità alimentare che ci metta al riparo da eventi contingenti che possono piegare il nostro modello di vita e credo che ogni cittadino si voglia sentire libero di alimentarsi come meglio ritiene. Gli ultimi anni ci hanno insegnato che alcune certezze non erano così certe come le immaginavamo. La pandemia, i conflitti hanno messo in discussione alcune catene di approvvigionamento che pensavamo fossero un fatto positivo perché tutto ci costava meno prodotto senza il rispetto delle regole, delle norme, dell'ambiente che i nostri agricoltori, i nostri trasformatori invece devono rispettare e lo fanno anche volentieri purché vengano protetti all'interno di un mercato che sostenga un modello virtuoso. E' su questo che noi stiamo investendo le nostre risorse ma soprattutto stiamo dando fiducia anche al capitale privato. Oggi abbiamo il sistema bancario che crede di nuovo nell'agricoltura e nell'agroindustria. Abbiamo chiuso da poco un protocollo con il gruppo Intesa che mette 20 miliardi a disposizione di linee di credito dedicate al mondo dell'agricoltura, dell'agroindustria e della pesca. E altri gruppi bancari ci chiedono di fare la stessa cosa, quindi c'è oggi una sintesi operativa del sistema Italia che può far crescere la ricchezza, quella a cui un governo deve puntare utilizzando le risorse migliori che ha, che è la nostra impresa. Certo, e andiamo all'altra parola che invece resta molto calzante per l'agricoltura che è l'innovazione. Le appunto parlava dell'esigenza di investire. L'innovazione è la chiave di volte, offre la possibilità di rispondere alle sfide nuove, soprattutto quelle ambientali che non si possono affrontare semplicemente con dei vincoli come il taglio netto degli agrofarmaci. Abbiamo visto c'è stata una sollevazione in Europa e la stessa Europa ha dovuto ripensarlo, ma la strada è quella dell'innovazione, di prodotti nuovi che consentono agli agricoltori di continuare a produrre. E lei ha ben detto quello che l'Italia ha sempre saputo fare, siamo stati avanguardia storicamente anche di sistemi che garantissero maggiormente l'ambiente, garantendo però una produzione utile al reddito, dove non c'è reddito non c'è impresa e se non c'è impresa evidentemente alcuni territori possono essere desertificati e se l'agricoltore smette di fare quello che fa evidentemente l'ambiente sta peggio e questo è quello che l'Italia ha ricordato all'Europa che nasce su questi presupposti e che nel tempo ha perso la dimensione dei suoi interventi che sono diventati sempre più ideologici e meno attenti ai pilastri invece sui quali doveva continuare a crescere oltre che essere fondata nei contenuti dei trattati di Roma. Sostenibilità ambientale sempre connessa alla sostenibilità di reddito e all'equilibrio sociale che ne deriva. Grazie Grazie Grazie